E' arrivato il leggendario latitante di Altamura Questa è la quantità, mi avete un mondo dedicato La Frigula Rossa Una storia molto abbiana Con scene da brivido Prodotto e presentato dal melodico principe della melodia napoletana Manuel Quigli Prossimamente in giro Questo vuoi che mi vado a consegnare Non mancare, rimarrete scioccato Nulla di dante, non tiene chiudinta Lontane d'opena, nascuse la gente E' l'ultima...